Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile ai calci di rigore. Forse in pochi lo sanno, ma l'Umbria è da sempre una terra legata al Brasile. Le prime migrazioni risalgono alla fine dell'Ottocento con un boom a partire dal 1905, quando migliaia di perugini, ternani, spoletini e orvietani decisero di lasciare la loro terra per cercare un futuro migliore. Sono tante le associazioni che nel tempo hanno cercato di contarli e riunirli. Una delle più importanti è Umbri do Brasil, associazione nata nel 1989 a San Paolo, dove risiede una popolosa comunità di Umbri. Ad oggi l'associazione conta oltre 1500 famiglie iscritte e grazie al rapporto con le istituzioni della regione promuove i legami con la madrepatria attraverso incontri e visite di studio. L'Ombelico del mondo è un altro esempio di vicinanza con la terra di San Francesco. Si tratta infatti di una radio brasiliana che trasmette però le principali notizie Umbre. Ma quanti sono invece i brasiliani in Umbria? Secondo l'ultimo censimento sono 623, ma stando a quanto ci dicono gli esperti, il numero è destinato a salire.